Questa volta la destinazione di viaggio è piuttosto remota, conosciuta da tutti ma in pochi l'hanno visitata. Eppure le Filippine sono una meta ricca di storia, di tradizione e con molte cose da fare e da vedere ad iniziare da Manila, che come tutte le grandi città sovrappopolate alterna angoli interessanti con aspetti meno brillanti. Ma una visita alla cittadella di Intramuros e una passeggiata a lungomare vanno fatte. Chi vuole invece una meta un po' più insolita e originale troverà in Kamingui un'ottima scelta. Quest'isola vulcanica, poco frequentata dai turisti, ha tutto quello che serve per scoprire il paese in modo autentico. Se invece siete arrivati fin qui per il mare avete fatto benissimo. Le spiagge di Bohol e Manglao offrono un assaggio dello straordinario patrimonio naturale delle Filippine. Un mare tropicale, accessibile, economico e con un po' di attenzione anche non troppo affollato. Tutto questo in Viaggio con me. È vero, le Filippine non sono proprio dietro l'angolo. Per arrivarci ho fatto prima scalo ad Amsterdam e poi a Taiwan. Questa volta il volo in business class per fortuna ha reso tutto un po' più soft. La Prodo a Manila è una tappa obbligata anche se non vi fermate nella capitale che tuttavia merita di essere vista anche solo di sfuggita. La città è enorme ma per assaporare il feeling locale conviene andare subito a vedere cosa si nasconde nella zona di Intramuros. Una specie di medina protetta da bastioni fatta costruire dai conquistadores spagnoli nel 1571. Ciò che si trova al suo interno è stato più volte distrutto e ricostruito durante la turbolenta storia di Manila come la sua cattedrale. Quella che si vede oggi è infatti l'ottava ricostruzione ma già anticipa il grande spirito cattolico dei Filippini che sperimenterete ovunque nel paese disseminato di chiese come quella di Sant'Agustin l'unica sopravvissuta dentro le mura alle distruzioni della seconda guerra mondiale. Il baluardo di Sant'Andrea che mostra tutta la massiccia struttura fortificata è anche un ottimo punto di osservazione della città moderna che crea un forte contrasto con ciò che rimane del vecchio dominio coloniale anche se di qui sono transitati anche i giapponesi e gli americani. Comunque il posto più significativo di Intramuros rimane Fort Santiago, molto ben conservato considerando che è stato eretto nel XVI secolo in onore a San Giacomo il Grande, patrono di Spagna. Arroccato sopra la foce del fiume Pasing, Fort Santiago domina tutta la zona della Baia di Manila. Questa fortificazione è stata utilizzata principalmente come base militare e come prigione e proprio qui ha trascorso gli ultimi mesi di vita l'eroe nazionale José Rizal. Eroe a cui è stato dedicato anche il vivace parco fuori dalle mure, un vero e proprio punto di ritrovo per gli abitanti di Manila che non sono affatto pochi. Se si considera tutta l'area metropolitana stiamo parlando di oltre 12 milioni di persone anche se complice la giornata di festa il colpo d'occhio questa volta non è stato così angosciante. Comunque se cercate il contatto umano, diciamo così, basta fare un salto nel popoloso quartiere cinese di Binondo e in quello di Quinapo dove basta che ci sia una messa da qualche parte per sperimentare la densità abitativa che troverete anche nei vari opinti mercati rionali ottimi per chi se la sente per sperimentare lo street food locale. Se invece preferite qualcosa di più tranquillo potete andare nella zona chic di Makati. Comunque quando scende il tramonto la giornata a Manila non può che terminare con una romantica passeggiata lungomare sul Roxas Boulevard. Un must da immortalare con qualche bella foto. Le Filippine sono una destinazione turistica un po' insolita per noi italiani ma coming in è fuori da circuiti turistici persino per i local. In effetti è una meta piuttosto remota e l'ho scelta per questa ragione perché qui tutto è rimasto piuttosto autentico. Ma c'è un'altra ragione per cui ho scelto di venire a coming in. È l'isola col maggior numero di vulcani per superficie quadrata nonostante sia veramente piccola ne conta addirittura tre. La prima tappa che ha avuto l'urgenza di visitare è stato il locale centro di vulcanologia che tiene monitorata l'attività eruttiva perché a me piace l'avventura ma non avevo intenzione di trasformare il mio video in un disaster movie. Rassicurato dallo stato dormiente dell'unico vulcano ancora attivo sono partito ad esplorare l'isola. Muovendomi comodamente con questi furgoncini molto economici scoprire le attrazioni del posto è facile anche perché stiamo parlando di appena 237 chilometri quadrati. Nel taccuino di viaggio metterei subito le cascate di Katiwasan. Nulla di spettacolare va detto ma consente di entrare subito nel mood di questa destinazione quasi totalmente montagnosa dalla vegetazione rigogliosa isolata e tranquilla. Qui volendo si può fare il bagno e rinfrescarsi dall'umidità che di certo non manca. Ma se vi piacciono i bagni alternativi potete farvi anche una sessione di relax nelle vicine sorgenti di acqua calda del monte Ibok che inspiegabilmente piacciono molto ai locali che riescono a stare in ammollo in queste piscine con l'acqua a 40 gradi per ore ed ore. Vabbè. Per un momento di storia e misticismo potrebbe valere la pena visitare ciò che resta della vecchia chiesa spagnola costruita ai tempi di Magellano che proprio qui mise ancora nel 1521. Ciò che rimane sono solo rovine ma con un po' di immaginazione si possono ancora sentire gli echi dei vecchi conquistadores. Rimanendo nella scia religiosa consiglio ai più audaci di percorrere ciò che è stata chiamata direi non a caso via Crucis. In effetti si tratta di una ricostruzione della via Crucis di Cristo ma le statue a grandezza naturale delle 14 tappe sono posizionate sulla ripida salita del monte del vecchio vulcano. Arrivati in cima vi sentirete parecchio vicini a Dio anche in modo metafisico però la fatica verrà ripagata da un notevole panorama. Dopo tanta ginnastica una sosta gastronomica ci sta. Qui e là qualche snack si trova ovunque soprattutto nel villaggio principale di Mambajau ma il mio consiglio è di assaggiare il piatto locale per eccellenza il chicken so roll. La padrona di casa Vicky mi spiega come si prepara. Serve del pollo nostrano già bollito, del latte di cocco, del ginger, dei peperoni, un po' di cipolla e della citronella, un infuocato peperoncino e un mix di porri e cipollotti. Si mette tutto sul fuoco per una mezz'ora, il tempo che i vari aromi si assorbano e voilà il gustosissimo chicken so roll è pronto e va assolutamente provato. Non si viene a coming in per il mare ma ci sono due posti che meritano di essere vissuti in acqua. Il primo è il curioso cimitero sommerso di Sunken che un'eruzione del vulcano nel 1870 ha spostato di diversi metri dalla sua posizione originale fino ad essere sprofondato totalmente in acqua per poi essere stato colonizzato nel tempo dai coralli. La gita alla grande croce galleggiante è molto popolare tra i locali come lo è il bagno nelle cristalline acque antistanti alla famosa White Island, una piccola striscia di sabbia che non solo consente di godersi una bella vista dei vulcani ma anche di dedicarsi alla tintarella giusto per dire che al mare ci siete stati. Peccato che questo posto, l'unico ad avere una candida sabbia bianca sia però spesso preso d'assalto. Isole, isole, isole. Le Filippine sono composte da oltre 7000 terre emerse di cui poco più di 2000 sono abitate perché le altre hanno dimensioni molto piccole addirittura minuscole ma se le mettiamo tutte insieme la superficie totale raggiunge praticamente le dimensioni dell'Italia. Quindi se cercate il mare bello siete nel posto giusto e avete solo l'imbarazzo della scelta. Ma se fate come me e venite a Bohol, oltre al mare troverete anche un po' di movita. Per spostarsi tra le isole si può scegliere l'aereo, mezzo comodo, veloce ma anche piuttosto costoso. Se invece scegliete la nave risparmiate parecchio ma scordatevi la rapidità e soprattutto la comodità. Prima di tuffarmi in mare ho deciso di vedere quello che offre l'introterra di Bohol caratterizzato da una vegetazione molto rigogliosa tra grandi distese di campi di riso che si perdono con le palme di cocco. Ma a sorprendere è la curiosa formazione geologica delle Chocolate Hills. Queste colline, patrimonio mondiale dell'umanità, devono il loro nome al fatto che durante la stagione secca la vegetazione assume il colore del cioccolato. Comunque sono piuttosto peculiari anche viste così. L'origine scientifica di queste formazioni è ancora piuttosto incerta. La leggenda locale vuole che siano le lacrime pietrificate di un gigante triste per la perdita della sua amata. Se venite a Bohol non potete proprio perdere questo singolare paesaggio. Potete invece fare a meno di visitare il Santuario dei Tarsi, i piccolissimi primati dai grandi occhi che oltre a essere costretti a non vivere in libertà sono poco più di un souvenir fotografico. Sulla strada potete però fare una sosta lungo il fiume Lobok che volendo si può percorrere in barca per un giro decisamente troppo turistico. Meglio fermarsi a Baclayon ed entrare nella chiesa che tiene traccia della dominazione spagnola e che richiama i fasti coloniali che si possono ancora osservare in qualche edificio cittadino. Per la Movida invece bisogna spostarsi sulla piccola isola di Panglao che si può girare facilmente noleggiando un comodo ed economico scooter. Il punto di ritrovo ufficiale è quello della famosa Alona Beach che non è certo diventata famosa per la sua bellezza, ma qui a molti piace stare. Io invece ho preferito andare a vedere le grotte di Inagdanan, un posto curioso che permette di fare il bagno tra le stalattiti e le stalagmiti, esperienza che tutto sommato vale la pena di fare. Di sera si ritorna ad Alona Beach, c'è chi si fa fare l'ultimo massaggio sulla spiaggia, chi sceglie di andare a cena a base di pesce appena pescato e chi punta all'aperitivo alternative chic con birra e ricci di mare, ovviamente freschissimi. Ma non si viene nelle Filippine solo per questi giri, qui l'attrazione numero uno è e resta il mare. Basta noleggiare una barca e scegliere di puntare il dito verso una delle tante piccole isole circostanti alla ricerca di qualche spiaggia incontaminata. Ci sono molti aspetti che vi ricorderete volentieri di questa nazione, ma questo mare vi entrerà nel cuore. Grazie a tutti.